Ciao bellezze, bentornate sul canale e bentornate con un nuovo appuntamento Biopoint Missione Bellezza Oggi torno a parlarvi di capelli e lo faccio perché voglio trattare un argomento che so essere molto interessante per voi perché una delle domande che più spesso mi avete posto sul blog, sul canale YouTube è proprio questa come trattare i capelli danneggiati per farli tornare belli come sapete non sono insensibile al problema perché io stessa ve coloro e coloro i capelli abbastanza frequentemente quindi mi scontro anch'io con quelle che sono le problematiche di un capello trattato chimicamente è anche vero che ogni tanto passo la piastra oppure con il ferro che ha capelli creo delle onde quindi non solo problemi legati ai trattamenti chimici del capello ma anche quelli legati alla trazione meccanica di questi attrezzi o anche semplicemente del phon e della spazzola o comunque all'azione del calore che come sapete appunto danneggia i capelli quindi si tratta di un argomento che è piuttosto interessante anche per me ed è per questo che ho deciso di parlarvi di una linea di prodotti Biopoint dedicata proprio all'argomento si chiama Extreme Repair Extreme Repair è il nuovo esclusivo programma Biopoint che serve a riparare i capelli danneggiati e molto danneggiati la tecnologia di Extreme Repair sfrutta molecole di diverso peso molecolare per far sì che i vari ingredienti contenuti all'interno della formula penetrino nei diversi livelli della fibra capillare danneggiata per ripararla dall'interno quindi che cosa abbiamo? diciamo che tutti e quattro i prodotti sono formulati con le proteine del grano a basso peso molecolare quindi grazie alle loro dimensioni ridotte queste proteine riescono ad entrare in profondità nella fibra capillare fortificandola dall'interno e quindi promuovendo una ricostruzione del capello dall'interno e non soltanto dall'esterno qua abbiamo una cheratina idrolizzata a peso molecolare medio quindi è una molecola leggermente più grande rispetto a quella delle proteine del grano questa cheratina idrolizzata agisce in superficie e quindi agisce sulla cuticola quindi sulla parte visibile del capello quella che vediamo anche noi quindi va a ricostruire lo strato più esterno della fibra capillare donando quindi subito immediata brillantezza al fusto, alle punte e al capello in generale i prodotti della linea BioPoint Extreme Repair sono quattro cominciamo dal primo si tratta del fluido super ricostruttore eccolo qui si tratta di un prodotto che va applicato sui capelli prima di procedere allo shampoo se ben ricorderete c'era un prodotto analogo anche nella linea Ayurveda sempre di BioPoint questo è un fluido super ricostruttore si applica sul capello asciutto prima di procedere allo shampoo il fluido super ricostruttore rappresenta una vera e propria terapia d'urto per i capelli danneggiati perché è arricchito con uno speciale polimero ristrutturante avvolge la cuticola e la protegge con un film elastico ed invisibile e c'è da dire che questo film elastico ed invisibile oltre a proteggere il capello fa sì anche che tutti gli ingredienti interessanti contenuti all'interno del prodotto restino a contatto con il capello e con la cuticola favorendone quindi l'assorbimento e ovviamente favorendo anche una maggiore efficacia del prodotto questi sono lo shampoo e la crema della linea Extreme Repair di BioPoint la formulazione di questi due prodotti è arricchita con ceramidi che si inseriscono fra le cellule della cuticola e agiscono come un legante abbassando le squame e conferendo quindi uniformità e compattezza alla superficie del capello e restituendo quindi ovviamente brillantezza e un aspetto veramente molto più sano e luminoso alla chioma potete procedere con lo shampoo con uno o due lavaggi a seconda delle vostre abitudini e quando avrete sciacquato anche questo ovviamente procedete con la maschera la applicate sui fusti e sulle punte la lasciate agire per qualche minuto nel frattempo potete pettinare i capelli perché li rende veramente molto morbidi e setosi e facilissimi da pettinare dopodiché dopo qualche minuto potete procedere con il risciacquo ma prima di cominciare con la piega vado a parlarvi anche del quarto prodotto della linea Extreme Repair che è un latte di costruzione un quarto prodotto speciale che si applica sui capelli dopo tutti gli altri ed è un prodotto senza risciacquo quindi mi raccomando fate attenzione applicatelo soltanto sulle medie lunghezze e sulle punte altrimenti rischiate di ingrassare troppo la cute e di conseguenza di ingrassare troppo il capello si tratta di un latte speciale che va a riempire le imperfezioni della cuticola e la sigilla riportando quindi il capello al suo originario splendore per una riparazione duratura nel tempo che ovviamente va a massimizzare l'effetto dei prodotti che abbiamo applicato prima di procedere con il latte senza risciacquo anche questo appuntamento Biopoint Missione Bellezza è terminato e io spero di avervi presentato dei prodotti che possono tornarvi utili per la vostra beauty routine dei capelli specialmente appunto se i vostri sono dei capelli danneggiati che hanno bisogno di tornare l'antico splendore come sempre potete cercarmi sui social seguendo l'hashtag Biopoint Missione Bellezza per trovare tutti i materiali e tutte le produzioni fatte finora dedicate ai prodotti Biopoint come sempre potete lasciarmi un messaggio sotto al box informazioni se avete delle domande oppure comunque potete scrivermi sul blog dove troverete l'articolo dedicato a questi prodotti con la lista degli ingredienti e tutte le informazioni per poterli acquistare io vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima ciao ciao